Purtroppo non sono un esperto nell'arte del montaggio, come potrete vedere da questi miei video miserabili che spero vi piacciono. Però questi editors lo sono. Ecco i candidati di quest'anno nella categoria tecnica molto importante del miglior montaggio. Joel Cox e Gary D. Roach per American Sniper, Sandra Adair per Boyhood, Barney Peeling per Grand Budapest Hotel, William Goldenberg per The Imitation Game e Tom Cross per Whiplash. Gara apertissima anche quest'anno, come l'anno scorso, in cui i grandi favoriti parevano American Hustle e Captain Phillips e alla fine li sconfisse entrambi Gravity. Quest'anno abbiamo Boyhood e Grand Budapest Hotel premiati agli Eddie Awards, rispettivamente come film drammatico e film commedia musical, agli Eddie Awards che sono i sindacati dei montatori. Ma abbiamo visto che Whiplash, Tom Cross, è stato premiato col BAFTA. E non dimentichiamo che Joel Cox per American Sniper aveva già vinto un Oscar con gli spietati e William Goldenberg per The Imitation Game aveva già vinto l'Oscar per Argo, quindi potrebbero fare la doppietta. Quindi è una gara apertissima, probabilmente tra Boyhood e Whiplash. Io spero anche qui, come nelle altre categorie, in American Sniper. Secondo voi, chi vincerà come montaggio? Chi mi insegnerà a fare il montaggio dei video, eh? Rispondetemi qui sotto, ok? Ciao!